Un film sanmarinese sulla prima guerra mondiale con il regista Filippo Macina e il producer Oscar Cervellini e il signore che non lo conosciamo? Alberto Zancolo e la sua riqualifica in questo? Sceneggiatore storico Ah perfetto, due parole? Due parole su questo film Oggi abbiamo finito le riprese delle prime due giornate di produzione di questo film Abbiamo viaggiato ieri e oggi, stamattina siamo arrivati alle quattro mesi Alle quattro mesi di questa mattina? Alle quattro mesi di stamattina Complimenti E adesso abbiamo girato tutte le scene che servivano per la trincea che fanno parte della storia che stiamo narrando sul riferimento della bandiera ritrovata E qual è la storia della bandiera ritrovata? La bandiera ritrovata è una storia tutta sanmarinese perché la Repubblica di San Marino nella prima guerra mondiale ha partecipato con un'organizzazione di un ospedale in prima linea fu situato in prima linea nelle montagne del Carso lungo la linea dei combattimenti gestito da volontari sanmarinesi, medici eccetera eccetera e la storia ha tante storie eroiche anche di sanmarinesi stessi in prima persona Ottimo, sicuramente sarà un ottimo lavoro perché abbiamo visto già l'altro film Tutta la storia di Ternino Bianca Azzurra Del Ternino Bianca Azzurra che è stato girato molto bene Complimenti Grazie Tanti persone di Muffalcone, Gorizia, come mai? Abbiamo cercato i rievocatori storici che fossero più adeguati anche alla situazione che riproponevamo cioè le battaglie del Carso, perciò molti friulani, veneti, tutta gente del posto e si sono offerti molto disponibilmente per fare tutto questo cerchiamo di essere il più realistici possibile anche nella parlata nel Veneto Lei che è storico, il discorso di questo campo base, di questo ospedale sanmarinese E' ricordato? E' stato difficile trovare poi i documenti relativi a questo episodio? Si, ci sono state parecchie difficoltà a livello proprio di ricostruire completamente la storia anche se abbiamo avuto un grandissimo aiuto per molta documentazione trovare tutti i singoli punti è stato abbastanza complicato anche perché onestamente in Italia di questo ospedale sanmarinese non ne sa quasi nessuno dell'esistenza E adesso grazie a Filippo Massina e ai miei sanmarinesi vedremo di dare appunto testimonianza di questa cosa Da parte di sanmarinesi un sentito ringraziamento per tutto quanto quello che ha fatto e che sta facendo Grazie mille Grazie Grazie a voi